Sì, passiamo oltre. Eh, Timon? Che cazzo fai? Sto mandando avanti al punto dove entriamo noi. Ma si può guardare un film a spezzatino? Bonino. O con tre er mio setoloso amico, io ho in mano il tasto. Ma in questo modo saranno tutti confusi. Fusi. Dobbiamo tornare all'inizio della stossa. Noi non ci siamo all'inizio della storia. Sì che ci siamo, ci siamo sempre stati. Sì ma Malikon Hero non lo sa. Allora perché noi raccontiamo la nostra storia? No! Zio Max, rilassati. Hai visto Timon? No, non l'ho visto. E che giornata è stata? Niente fratture, niente escoriazioni, niente frazioni, niente escoriatture, niente toto, niente omi di alcun genere. In una parola, non c'è alcun segno della presenza di Timon da nessuno pa- It was at this moment he knew. He fucked up. Questa è... FATTA! E io cercavo solo di portare un po' di ososso in un'esistenza altrimenti grigia. Timon, non si può continuare così. Solo questo mese hai buttato giù quattro pareti e fatto crollare l'uscita di quattro pareti. Noi caccati dobbiamo collaborare ed aiutarci, ne va di la nostra sopravvivenza, sai? E a quale scopo? Non facciamo che scavare, poi nasconderci, nasconderci e poi scopare. Quindi sarebbe questo il tuo potere speciale, eh? E la cale, eh? Che arma, gazzi! Oltre ciò che vedi, oltre ciò che vedi, oltre ciò che vedi, oltre ciò che vedo. Ehi, mi dici come faccio a guardare oltre ciò che vedo con quel popò davanti, eh? Culo! Oh, scusa! La totale mancanza di osos di questo posto è ampiamente compensata dal caldo torrido e dal sole a picco. Cacca, dolce, cacca, pumba! E' il caso di correre? Io direi di sì. Oh, è una figa! Addio, mondo crudale! Eeele! 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 Grazie a tutti.